Cecilia Rodriguez è famosa per essere gelosissima del fidanzato Ignazio Moser. Stavolta la 31enne argentina è arrivata a schiaffeggiare il compagno in piazza Duomo a Milano. Il 29enne però non ha fatto nulla, la colpa è tutta delle iene. Il programma di Italia 1 ha infatti organizzato uno scherzo alla sorella di Belen facendole credere che Ignazio avesse dato il numero di telefono a una ragazza. La gelosia di Cecilia, una volta uscita dal ristorante, è stata incontentata sostenibile, schiaffi e borsettate. Per fortuna l'inviato della trasmissione si è subito palesato per evitare il peggio e Nacho ha potuto tirare un sospiro di sollievo.